Amici 2018 serale, chi ci sarà e chi no, giudici, coce data d'inizio. Ecco le prime anticipazioni sul serale di Amici 2018, svelati i primi nomi di quest'anno. Per Maria De Filippi è giunto il momento di cominciare a pensare al serale di Amici 2018, ormai mancano poche settimane al debutto della fase più importante del talent show Mediaset, che anche quest'anno sta ottenendo ottimi ascolti con gli speciali del sabato pomeriggio. Ebbene proprio questo pomeriggio nel corso dello speciale in onda su Canale 5, abbiamo visto che sono state fornite le primissime anticipazioni su quello che sarà il nuovo cast del serale. Tutte le novità sul serale di Amici 2018, chi ci sarà e chi no. Nel dettaglio Maria De Filippi ha svelato il nome del nuovo direttore artistico di questa edizione del serale di Amici 2018 che tornerà ad andare in onda in rigorosa diretta televisiva su Canale 5. Dopo ben quattro anni con Altimone Giuliano Peparini, ecco che quest'anno si cambierà a rotta e il nuovo direttore artistico del serale sarà Luca Tommassini, che il pubblico conosce già molto bene per il suo ruolo a Dieci Factor, dove nel corso di questi anni è stato apprezzatissimo per il lavoro svolto con i ragazzi del talent show in onda su Schi. Luca Tommassini oggi pomeriggio ha fatto il suo primo ingresso ad Amici 2018 e ha ammesso di essere molto entusiasta di questa nuova avventura, che andrà ad affrontare tra poche settimane. Sì, perché in queste ore è stata svelata quella che sarà la data ufficiale di messa in onda della prima punata del serale. Quando inizia il serale di Amici 2018 in tv? Le anticipazioni ufficiali sul talent show di Maria De Filippi rivelano che il primo appuntamento con il serale di questa edizione è in programma sabato 7 aprile 2018, salvo cambiamenti di programmazione dell'ultimo minuto. A niente sono valsi gli appelli di Maria De Filippi, la quale aveva chiesto di poter andare in onda in un altro giorno della settimana ma alla fine Mediaset ha scelto di continuare a trasmettere il talent show di sabato sera controballando con le stelle di Millie Carlucci in onda su Rai 1. Tornando al cast di Amici 2018, possiamo svelarvi che in questo nuovo serale non ci sarà Emma Marrone nelle vesti di direttore artistico e coach della trasmissione. La cantante Salentina da maggio in poi sarà impegnata con il nuovo tour, che la porterà in giro in tutta Italia. A rischio anche la presenza di Elisa, che potrebbe lasciare l'incarico dopo svariate edizioni. Tra i nuovi giudici, invece, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile arrivo di Marco Mengoni, che potrebbe lavorare con Alessandra Amoroso. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS